Edita, quest'oggi sei qui soprattutto per rappresentare il bello del ciclismo femminile, un movimento che cresce sempre. Un movimento che cresce e voglio ringraziare l'Axi Ciclismo, che crede tanto in questo nuovo evento. Emiliano è il presidente che veramente scommette tanto su questo mondo. Sono qui per presentare anche la mia Gran Fondo, che abbraccia tutte le donne, da donna sicuramente le abbraccio tutte. E sono veramente molto felice di essere entrata in questa bella e grande famiglia Axi. Edita, ripercorrere la tua carriera sarebbe una cosa lunga. Tu hai vinto praticamente tutto. Cosa ti ha dato nella vita al ciclismo? Mi ha dato tanto. Mi ha insegnato a non molare, mi ha insegnato che per durare tanti anni non basta il talento, ma ci vuole tanta testa, tanta costanza, tanto impegno. Sono cose che poi me le ritrovo oggi e qualsiasi cosa che faccio. Quindi grazie al ciclismo sono quelle che sono. Oggi abbiamo visto tante ragazze sorridenti indossare la maglia tricolore. Lo fanno per divertimento, lo fanno per passione. Qual è il consiglio di Edita Puciscai? Continuare così. Continuare ad amare il ciclismo, amare in tutte le sue fasi. Perché ciclismo è anche una grande fatica, ma noi donne sappiamo faticare in questa vita. Il ciclismo è una fatica gratificante, un ciclismo sono i valori. Continuare a divertirsi, perché professionismo è una cosa, ciclismo amatoriale è un'altra. Ora sono anch'io in questa veste di ciclo amatore e mi diverto tantissimo. Consiglio a donne ma anche a uomini di vivere il ciclismo con tutto il cuore, con la passione, con il grande divertimento e prendere il bello che il ciclismo sa dare. Edita parliamo della tua Gran Fondo, diamo un appuntamento. Sì, invito a tutti il 21 giugno a Pistoia per vivere una bella giornata incentrata sul cicloturismo e sui valori, perché è anche una Gran Fondo benefica. Accoliamo le donne, persone diversamente abili con iscrizione gratuita, due attratti cronometrati per provare un brivido d'agonismo, tanto divertimento, amicizia, bellissimo territorio e grande accolienza. Accoliamo, proponiamo i nostri prodotti, quindi venite che ci divertiremo insieme.